Com'è praticamente il vero inizio della salita? Siamo praticamente all'inizio della salita. La prima salita lunga, la prima salita. Al campionato giornale, girare al sinistro lo posso saltare in quadro questo o l'altro. Prendere in canale. Penso anche da parte di Rino De Candido. La posso allargare? Sì. Piano un attimo, la posso allargare. Tira destra, la rotonda, la posso allargare. Vediamo chi c'è qua alla CH Hotel. Quando siamo venuti eravamo in questo hotel qua. A visionare. Ok. A destra. Lento, omega. Ok. Ok. Ci sono i primi due chilometri. Lo posso allargare ancora di più. Qua ci saranno i box. Ok. Lì, questo penso qua. Così mi hanno detto quando sono venuto io. Gli altri box sono dopo l'arrivo sinistro. La ruota sta lì. Marino è questa? Qua non ti dicevi tu? Sì. Il taglio. Il taglio dovrebbe essere qua. Sì, dopo sbuchi fuori in cima. Esatto. E la crono esce fuori di qua. Da questa rotonda qua. La crono dei prof. Sì, sì. E quella strada che lasci lì alla patterna. Quando noi siamo a destra che ha fatto quel pezzo nuovo. Lì vai dritto. Tu vieni via dritto. Tu hai la crono. Sbuchi fuori. Faccio. Tutta qua. Si. Probabilmente questa è la parte più impegnativa della salita. Sbuchi. Sbuchi. Da di lì molla. Sbuchi. La crono è da qua. Da di lì. La crono è da giù. Questa strada qui arriva. Il dito Marco. Questa strada è la crono. Sbuchi. Si si. La crono arriva da lì, poi arriva e si rimette sulla salita. Si. E noi invece abbiamo tagliato prima l'altra. Sbuchi. Sbuchi. ... ... ... ... ... ... Sì, è il primo test. Adesso faccio un guadonacca così, è troppellato in due chilometri. Ma ormai basta. Ci servono, ci servono. Quello che facevamo anche lì al sesto che era... Era più dura. Quale? La linea è più dura. La linea è più dura. La prima parte c'era anche lì. In Galleria. Quale che era? Che lì? Sì, no? Più un pezzo, più un metro. Qui andava su 2-3%. Qui andava su 2-3%. Anche a 2. Il dettivo è prima. Eh, prima. La rapettina prima della rotonda. E poi dopo. Quindi due chilometri. Due chilometri. Un circuito è un guadono. Però è tutto mosso adesso. Perché arrivare a 2-3% dall'arrivo. È tutto così ondulato. Sali, scendi. C'è piano. C'è piano. C'è piano. C'è piano. E se meno, lo sai, sei sempre là. Sì, sì. Sei sempre in fila. Sei sempre là con la catena tirata. Oh, lo scalatore. No. È andato. È andato. Lo scalatore. Lo scalatore. Perché venga una corsa massacrante. Eh, tirata, tirata. Sennò poi fai la differenza. Sì. Lo tirerà. Oppure che... C'è il prof. Da 40 km. Da 40 km. Da 40 km fuori in fondo. Sì. Adesso qua, spiana. Te li butti a sinistra nel boschetto. Qua si stringi alla strada. Non si può andare a sinistra? Eh, no. Noi siamo... Eh. Stesso con 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 che noi, eh. Ma facciamo qua? A sinistra si gira qua. Posso andare... ...in pane. Ma sì. In gara vai quasi giù. So che in Spagna fanno queste cose qua. Colpa mia, perché... Avevo il finestrino aperto. Ecco, sono bene, è non ti ma... Scusi, segretario, eh. L'ultimi 500 metri questi. e da qua in poi davanti perchè non recuperi più, fino al castello, e si stringe la strada. Di qua esci di qua, vedi, adesso tu lo vedi così, ma dopo mettono le transenne e si stringe ancora di più, e si stringe ancora. E poi, adesso vedi, non vedi più la strada che inizia a andare giù. Prima discesa. Siamo in discesa, adesso quando arriviamo nel punto più basso, si stringe ok. Lì è finita la prima discesa. Siamo sempre nella discesa, quelle poche crue di giù. E appena esci dal tunnel, all'inizio... Tante tecniche, tra parentesi. Hanno messo dei bei cuscini laterali, bello, bello, bello. Come si vuole appoggiare, provare, fare come esperimenti. Riposi un giro, rienti. Praticamente adesso siamo nella curva, sulla riga. Un bello spazio. Siamo adesso, in questo preciso momento. Poi i cuscini non li ho messi perché poi ci siamo fatti lì. Sì, proprio qui. 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 Siamo nella galleria, nella piccola galleria. Nel falso piano, prima di prendere la seconda salita. Nel mio finestrino, quel finestrino di Marco, meno davanti. Wow, soffia è un'opera delle palle di Pantino. È molto colorosa. Siamo nella prima ondulazione, prima di iniziare l'ultimo strappo, che iniziamo in questo preciso, un momento, ecco l'ultima salita, l'ultimo 800 metri, fino a metodo, sì, fino a metodo, a metodo, si è iniziato, un modo di salita. Qua non si mettono le transene, fatica di doppia le macchie. No, metto le transene che qui.... Ma che è in salita, è sempre messa per tutto. Dove metti la gente, sennò ti vieni in mezzo alla strada mondiale e non esiste che le salite senza trance. Ma anche l'ha bruciato, come hai visto. Praticamente siamo in cima allo strappo, nella seconda salita in questo preciso momento, che si vede tutto molto bello. Sì, perché?